Il vicepresidente delle camere penali di Palermo, l'avvocato Salvino Cantusso. Allora, una domanda. So che il presidente delle camere dell'Unione e Camere Penali, l'avvocato Beniamino Migliucci, ha invitato tutti gli avvocati penalisti iscritti all'Unione e Camere Penali ad iscriversi al Partito Radicale per sostenere il Partito Radicale e Radio Radicale. Come si stanno regolando le camere penali di Palermo? La camere penali di Palermo oggi intanto ha condiviso una bellissima esperienza. Abbiamo raccolto oltre 500 firme oggi ai Tagliarelli, ieri a Luciardone oltre 200 firme. E' una bellissima esperienza fatta di aspetti umani ma soprattutto di ricerca di un stato di diritto e di giusto processo che abbiamo sperimentato laddove il diritto è sofferenza e cioè detenzione. Il Partito Radicale sicuramente è una punta avanzata della ricerca e della battaglia per i diritti civili d'Italia, lo è sempre stato. Noi lo abbiamo sempre ammirato, lo sforzo, l'impegno del Partito Radicale, dei suoi uomini, delle sue donne. La Camera Penali di Palermo sta riflettendo sulla volontà di condividere con voi anche partecipando da iscritti a queste battaglie per la conquista di maggiori spazi di libertà e di diritto in Italia. Speriamo che la riflessione porti a un ottimo risultato, che sia profonda e accurata e quindi vi aspettiamo. Senz'altro, lo faremo con grandissima convinzione e piacere anche. Grazie a tutti.